E' attivo già da un paio di giorni il sito del Tribunale per i minorenni. Il portale, visitabile su www.tribunaleminorenni.caltanissetta.it, offre agli utenti la possibilità di reperire moduli, istanze e informazioni in tempo reale, evitando in questo modo di raggiungere gli uffici giudiziari che si trovano in via Domminzoni. Un vero e proprio lavoro di squadra, ha spiegato il presidente del Tribunale per i minorenni, Antonino Porracciolo, frutto della collaborazione dei giudici dell'organo giudiziario in cui è possibile, ad esempio, scaricare la modulistica relativa alle adozioni elaborata dal gruppo coordinato dal magistrato Gabriella Tomai, così come quella relativa alle istanze dirette alla magistratura della sorveglianza affidate al giudice Antonina Sabatino. Cristina Ascalia, magistrato di riferimento per l'informatica del Tribunale per i minorenni, si è invece occupata della supervisione tecnica. È un momento doveroso, ovviamente, perché viviamo in un'era digitale. Nei tribunali si parla di processo civile telematico, ormai gli avvocati e i giudici depositano i rispettivi atti telematicamente, quindi il Tribunale per i minorenni doveva avere il proprio sito. Il nostro portale offre indicazioni su come sono composti i collegi giudicanti, offre indicazioni anche sulle cancellerie, sulla struttura amministrativa. Mi piace sottolineare che questo sito è il frutto del lavoro di tutti i giudici di questo Tribunale. Per esempio c'è la modulistica in materia di adozione che è stata elaborata dal gruppo Adozioni che è coordinato dalla dottoressa Gabriella Tomai, giudice di questo Tribunale. Alla dottoressa Antonina Sabatino, anche la giudice di questo Tribunale per i minorenni, è stato affidato l'incarico di elaborare la modulistica in materia di sorveglianza. La dottoressa Cristina Scalia, che è il magistrato di riferimento per l'informatica di questo Tribunale per i minorenni, ha provveduto nelle sue competenze specifiche al coordinamento tecnico, alla supervisione tecnica.